È stata ritrovata ieri sera alle 23 in una pizzeria vicina alla stazione di Napoli, dove era arrivata ad Arezzo con il treno. Il titolare, vedendola addormentata a un tavolo, ha chiamato i carabinieri. Stamani gli agenti della squadra mobile l'hanno ricondotta a casa dai genitori. È andata a lieto fine la storia di Muna May Dioff, la dodicenne senegalese scomparsa da casa nel pomeriggio di sabato. La giovane è in buone condizioni, anche se non ha saputo spiegare i motivi di questo suo allontanamento. E' quanto hanno spiegato in conferenza stampa la dottoressa Isadora Brozzi della squadra mobile di Arezzo, la titolare dell'indagine, la dottoressa Erzilia Spena e il dottor Antonio Falzo della prefettura di Arezzo. Si escludono liti familiari. I motivi dell'allontanamento, diciamo, che non sono stati... la bambina non l'ha saputi spiegare. Possono sicuramente rientrare in quella fase emotiva che è tipica dell'età, la bambina ha 12 anni, quindi magari ha avuto un momento di crisi suo particolare, ha deciso di allontanarsi un attimo da casa, ma senza neanche poi dare peso al seguito, insomma. Il ritrovamento è stato possibile grazie alla collaborazione tra tutte le forze dell'ordine, la comunità senegalese di Arezzo e le associazioni del volontariato. Diciamo che appena abbiamo avuto la notizia della denuncia del PAD di scomparsa della minore sono state attivate immediatamente tutte le procedure che riguardano la ricerca della scomparsa di una persona che ha una minore età. E devo dire che il lavoro fatto da tutti quanti quelli che sono interessati è stato veramente un lavoro mirabile e importante.